Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Anche questa settimana una coreografia tutta per voi. Ormai lo sapete, noi siamo in tre. Emanuele, Martina, Mia e Mia. Ok? Ciao, buona visione! Emanuele, Martina, Mia. Era tutto più facile, ora in questa follia. Ho imparato a danzare cento giorni senza rincontrarsi. Non credevo che poi mi mancassi. Scriverò di amarti sulle note di un iPhone. Fisso la parete, tanto non ti chiamerò neanche stasera. Non vale la pena, è agosto ma si c'era. Anche se non serve a niente. Sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì. Stanotte solamente sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì. Sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì. Sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì. Ero sola, ero mia, era tutto più facile, ora in questa follia Ho imparato a danzare e zingare la notte per cercarsi Sei un ciclone in cerca dei miei passi Scriverò di amarti sulle note di un iPhone Fisso la parete, tanto non ti chiamerò neanche stasera Non vale la pena, è agosto ma si cera Anche se non serve a niente sottovoce, dirti sì Sottovoce, dirti sì, mi sfiori appena Sempre rido sulla mia schiena Sulla mia schiena Sulla mia schiena Ok ragazzi, ora vediamo la coreografia velocemente senza musica Quindi il ritornello fa così 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si ripete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La frase in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e avanti, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e dietro, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e avanti, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, a questo punto si ripete direttamente il ritornello, quello che abbiamo già visto prima, poi c'è la variante del 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e si gira, si gira, si gira di nuovo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, carezza e si gira, si gira, si gira, si gira. Bene, poi c'è il cambio frase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, cambio e a questo punto si ripete tutto da capo, per arrivare al finale, che l'ultimo passo si carica sulla gamba destra, Martina lo farà molto lentamente, io veloce giro, apriamo le braccia e questa è la pornografia, ok? Ciao ragazzi, buon lavoro, ciao! Ciao! Aspettiamo i vostri video! Yeah!